...meccanica dei fluidi, diciamo, fluidodinamica, quindi niente che riguarda lo spazio. Grazie Marco, appunto, metto subito le mani avanti, non vi sentite in colpa se vi addormentate, perché dopo una serie di bellissime conferenze dove i presentatori sapevano quello di cui parlavano, io non sono un esperto nel campo, per niente, quindi non sono né un geologo né tantomeno un biologo, sono un semplice appassionato come voi che ha fatto, si è letto un paio di robe e se le è messe sulla presentazione. Quindi questo giusto per mettere un po' le mani avanti. Questa presentazione sarà, diciamo così, una panoramica, è un po', questa della ricerca della vita nel Sistema Solare, un po' una scusa per ripercorrere, diciamo, la storia dell'esplorazione spaziale, in particolare dell'esplorazione robotica alla ricerca della vita nel Sistema Solare. Una delle domande fondamentali, tra le domande fondamentali che vogliamo rispondere del perché esploriamo lo spazio, perché mandiamo queste sonde nello spazio profondo a vedere e a cercare dati, a raccogliere dati ovunque, diciamo, due delle domande fondamentali sono riguardo alle nostre origini, come è che siamo arrivati fino a qui, come si è formata la Terra e la vita stessa e soprattutto si è formata da qualche altra parte, esiste della vita in luoghi diversi dalla Terra. Quindi la prima domanda in realtà è ancora un'altra, è perché non la cerchiamo a Terra, qui sulla Terra, queste tracce delle origini? Ovviamente la risposta è abbastanza banale, prima cosa abbiamo un pianeta molto attivo dal punto di vista geologico, con la crosta terrestre che si rinnova continuamente, vulcani, terremoti e quant'altro. Abbiamo mille modi di fare erosione sulla Terra, vento, acqua, alternanza, caldo-freddo e tutte queste cose che influiscono e che vanno a cancellare le tracce delle nostre origini e dell'origine della Terra stessa. E poi c'è un fastidioso strato di biosfera che distrugge ulteriormente queste tracce delle nostre origini. Quindi diciamo che il nostro pianeta è bellissimo, personalmente penso sia il pianeta più bello del sistema solare, ma non è molto adatto per andare a rispondere a queste domande sulle nostre origini. Quindi queste domande vanno, le risposte vanno cercate appunto nello spazio. Cominciamo dall'inizio, l'era pionieristica, quella che è cominciata con lo Sputnik, e che diciamo, questa divisione è un po' diciamo americano-centrica, che fanno terminare la prima era ai lanci delle Voyager, se vogliamo includere qualche altro lancio sovietico possiamo arrivare fino ai primi anni Ottanta con le ultime missioni Venera. E' stata un'era fantastica, un sacco di prime volte, qui ho elencato alcune tra le prime cose che nell'era spaziale abbiamo fatto in questi circa 20 anni, i primi flyby di tante cose, il primo di tutto, era veramente una pagina bianca che abbiamo cominciato a riempire lentamente. Durante quest'era abbiamo fatto cose straordinarie, siamo atterrati sulla Luna, abbiamo riportato a Terra rocce che hanno dato la prova di una comune origine fra la Terra e la Luna, abbiamo fatto il flyby di tutti i pianeti del Sistema Solare, quindi passaggio ravvicinato come quello che ci ha fatto vedere Marco ieri di Plutone, l'abbiamo fatto di tutti i pianeti, abbiamo raccolto un sacco di dati, siamo fatto cose straordinarie come atterrare su Venere, cosa non semplicissima, e diciamo che questa prima era dell'esplorazione spaziale ci ha permesso di sapere cosa ci può aspettare nei vari mondi del Sistema Solare. Quindi abbiamo raccolto dati, sappiamo più o meno quali sono le cose interessanti, però dal punto di vista scientifico, diciamo, la nostra conoscenza ancora non era così profonda da poter dare una risposta a queste domande. Anzi, diciamo che l'era spaziale, la prima era spaziale, si conclude con il Viking che atterra su Marte esplicitamente per cercare della vita e non la trova. E diciamo, la prima era spaziale, una immagine molto emblematica e simbolica della conclusione di questa prima era spaziale, e questa bellissima immagine ripresa dalle Voyager che una volta quasi ai confini del Sistema Solare rivolge la propria telecamera verso il Sole e verso la Terra e prende questa bellissima immagine della Terra, questo puntino blu pallido, all'interno dei riflessi, dei raggi solari sulla camera. E questa è un'immagine emblematica secondo me perché racchiude questo senso un po' di solitudine che alla fine di questa prima era spaziale abbiamo trovato, anche perché i dati che provenivano dalle varie sonde fino a quel punto non solo tendevano ad escludere la presenza di vita nel Sistema Solare, ma rafforzavano questa idea, cosa che tra parentesi si ritrova ad esempio anche in un altro campo di cui sono molto appassionato, della fantascienza, che si vede che inizialmente c'erano gli omini verdi che arrivavano da Marte, già dagli anni Sessanta abbiamo dovuto inventare la velocità warp per andare su altre stelle a cercare gli alieni ed è una cosa che si riflette da queste osservazioni che erano state fatte durante questa prima era. Dopodiché c'è un altro evento, un'altra considerazione da fare che contribuisce a questo senso di solitudine che si prova in quegli anni e che fra la fine di questa prima era e l'inizio della nuova era c'è stata una specie di interludio in cui non si sono avute moltissime negli anni Ottanta e i primi anni Novanta non è stata un gran periodo per l'esplorazione spaziale. C'è stata la conclusione della prima era con le missioni Venera, c'è stata la cosiddetta Halley Comet Flottiglia, cioè questa flotta di sonde che sono andate ad esplorare la cometa di Halley che passava vicino a noi nel 1986, fra cui appunto una delle prime grandi missioni dell'ESA, Giotto, e poco altro. Sono state veramente poche missioni di esplorazione spaziale in quegli anni. Sbaglio sempre il tasto. Di cui alcune non andate nemmeno completamente a buon fine, diciamo. La nuova era si apre verso la metà degli anni Novanta ed è quella che secondo me è un po', forse non ce ne accorgiamo, ma è un po' un'età dell'oro dell'esplorazione spaziale, quella che si apre a metà degli anni Novanta e che continua ancora oggi. Si apre con alcune missioni, soprattutto della NASA, Near Shoemaker a febbraio del 96, seguito da Mars Global Surveyor a novembre, Mars Pathfinder a dicembre, e Cassini-Huygens l'anno dopo, l'anno successivo. Diciamo, questa è un po' uno snapshot, una fotografia dell'inizio di questa nuova era ed è anche buona a farci capire un po' com'è la distribuzione delle varie destinazioni in questi anni. Più o meno questo riflette quello che è successo negli anni successivi, in cui sono avuti quasi metà delle missioni dirette verso Marte e la restante metà distribuita sulle altre destinazioni del sistema solare. Qui abbiamo una verso gli asteroidi e una famosissima e recentemente conclusa verso il sistema di Saturno. Quando parliamo di ricerca della vita, ovviamente la prima destinazione che viene in mente fin dai tempi di Schiaparelli e dei canali su Marte è Marte. Queste sono tutte le missioni che sono state attive su Marte dal 1996. sono tante e appunto per ribadire che questa è un po' un'età dell'oro, sono anche missioni di diverso tipo rispetto alla prima era spaziale perché sono missioni molto più longeve e possiamo vedere prima di tutto quali sono le missioni che hanno avuto successo e c'è una classica battuta che si fa che Marte ha delle difese planetarie molto forti perché come si può ben vedere non tante di queste hanno avuto successo. Di quelle che hanno avuto successo però molte di queste sono ancora attive e questo rispecchia diciamo gli avanzamenti che si sono avuti ed è di quanto queste missioni siano almeno dal punto di vista del ritorno scientifico ordini di grandezza superiori a quelle che si vabbè escluso probabilmente le Voyager o qualche altra rispetto a quello che si aveva nella prima era. Si va dalla Odyssey dal 2001 ancora attiva oggi fra qualche anno si spera raggiungerà i 20 anni intorno a Marte insomma sono veramente veramente tanto longeve. Quindi cominciamo questo nostro primo prima parte questo viaggio su Marte proprio con in realtà le immagini del Viking che è stata l'ultima missione della prima era a concludere su Marte quella che fino alla metà degli anni 90 costituiva il grosso del nostro sapere scientifico su questo pianeta. Queste sono immagini bellissime dell'avvicinamento e questa è un'immagine abbastanza emblematica di Marte, del carattere di Marte. In questa immagine infatti si possono vedere due cose fondamentali. La prima è un sacco di crateri e questi crateri testimoniano che la superficie di Marte è molto antica, è vecchia, quindi non ci sono stati grossi cambiamenti nel corso di milioni, miliardi di anni e quindi questa è la differenza molto dal nostro pianeta. Un'altra cosa che evidenzia però sono queste cose fantastiche qua che anche chi non è geologo e penso più o meno tutti in questa stanza compreso me, riconoscono essere letti di fiumi. Ovviamente gli scienziati non ti possono dire niente se non hanno le prove quindi possono dire che sono letti che sono stati formati da qualche liquido che a un certo tempo scorreva su Marte. Partendo da questa, perché ovviamente una delle domande, delle prime domande che vengono in mente è vabbè è stato un evento sporadico che è successo una volta, pochissime volte per pochi secoli, pochi millenni oppure è stato qualcosa che è durato molto tempo e che magari ha permesso lo sviluppo della vita durante questi anni. E queste sono le domande che a un certo punto è venuto a voglia di rispondere. I viking avevano avuto un approccio di saltare subito all'ultima domanda che era esiste la vita oggi, esistono i microbini nel terreno marziano che pullulano e diciamo che da questo punto in poi in realtà la NASA avrà un approccio un po' diverso quello che loro chiamano il follow the water in cui passettino dopo passettino cercano di rispondere a queste domande partendo dalla ricerca dell'acqua dove è stata, se c'è stata in passato, quanto tempo c'è stata e così via. Quindi la prima cosa che si fa, quindi praticamente lo studio diventa da biologico diventa un po' più riguardo alla geologia, quindi alla storia geologica del pianeta. La prima cosa che si fa in qualunque studio di geologia anche se io non sono un esperto di geologia però so che è un bel rilievo topografico che è quello che la NASA ha fatto con Mars Global Surveyor che per fortuna è stata una delle poche missioni che negli anni 90 ha avuto un buon successo ed ha prodotto questa bellissima e coloratissima mappa della superficie di Marte in cui si nota questa cosa abbastanza sorprendente in cui Marte è divisa essenzialmente due emisferi con un'altitudine molto diversa cioè l'emisfero sud è molto più alto un terreno molto più alto rispetto all'emisfero nord che invece ha un'altitudine molto bassa e quindi se c'era acqua in passato si pensa che scorresse soprattutto da sud verso nord e in effetti il senso di quei fiumi che abbiamo visto nelle immagini di Viking molti, la gran parte, aveva proprio questa direzione sud verso nord un'altra cosa che le sonde della NASA hanno fatto subito dopo è stata quella di andare a esplorare il contenuto di idrogeno nel terreno nel primo strato di terreno marziano questa è una mappa prodotta dai risultati di Odyssey quindi la sonda che ancora oggi è attiva su Marte è un po' controintuitiva nel senso che ok, prima cosa il contenuto di idrogeno nel terreno si pensa sia dovuto diciamo quasi sicuramente specialmente in grandi concentrazioni non può che non essere acqua nel terreno perché è l'unico modo in cui grandi concentrazioni di idrogeno possono essere presenti nel terreno stesso quindi questa è un po' una mappa di quanta acqua c'è oggi sulla superficie non sulla superficie ma diciamo nel primo strato di suolo marziano è un po' controintuitiva perché le parti blu sono quelle dove ce n'è poca le parti rosse sono quelle dove ce n'è tanta quindi ovviamente ce n'è molta ai poli polo nord e polo sud e poi uno se diciamo tenta di sovrapporre come qui la superficie topografica con quella del contenuto di idrogeno nel terreno vede che più o meno corrisponde ovvero nelle parti basse tende ad esserci un po' più acqua rispetto alle parti alte come uno si aspettava quindi incoraggiante e soprattutto ci dice che ancora oggi ci dovrebbe essere molta acqua e molto ghiaccio soprattutto sotto forma di ghiaccio ovviamente su Marte però ovviamente una cosa è vedere queste misurazioni diciamo un po' indirette dall'orbita e una cosa è vederle sul posto la missione che è andata poi a esplorare queste cose una delle tante è stata Phoenix Phoenix è atterrata nelle regioni polari di Marte quelle quindi dove si pensava che ci fosse una buona quantità di ghiaccio di acqua nell'immediato sottosuolo quindi a pochi centimetri di profondità bastava appunto scavare un pochino e arrivare al ghiaccio o perlomeno quello si sperava come tutte le sonde che atterrano su un altro corpo celeste in particolare le sonde su Marte lo fanno tutte la prima cosa che fanno quando atterrano e si prendono un'immagine del terreno circostante per vedere se è atterrato in un posto stabile cosa c'è intorno queste cose qui e questa è stata la prima immagine inviata da Phoenix quando è atterrata non so se notate qualcosa di diciamo così bianco e rilucente le piastrelle probabilmente le piastrelle ma infatti l'approccio degli scienziati come sempre è dire ok c'è qualcosa di bianco e riflettente a pochi centimetri quello è probabilmente terreno spostato dai motori di Phoenix mentre atterrava potrebbe essere acqua non si sa vediamo questo tra parentesi in realtà la reazione è stata un po' più scomposta infatti questa immagine si chiama Holy Cow che è quello che hanno esclamato gli scienziati appena hanno vista questa prima immagine che è arrivata da Phoenix un esperimento il primo che ha fatto uno dei primi che ha fatto Phoenix tra gli altri è stato quello di scavare un po' nel sottosuolo trovare quella sostanza bianca che forse è ghiaccio forse sale chi lo sa o altre cose e vedere nei giorni successivi cosa succedeva e cosa si è osservato è che questo in quattro giorni dal ventesimo giorno in cui Phoenix era lì al ventiquattesimo la parte una parte del ghiaccio che è stato scoperto da questo scavo era sublimato quindi era sparito e a quel punto anche i più scettici scienziati non potevano non avere dubbi che questo è di sicuro acqua ghiaccio d'acqua perché appunto una volta scoperto e sottoposto alla bassissima pressione dell'atmosfera marziana lentamente sublimava queste misurazioni le hanno fatte anche altre sonde dall'orbita questo per esempio sono le immagini riprese da Mars Reconnaissance Orbiter che ha una risoluzione molto alta e che è riuscita a vedere due crateri relativamente nuovi su Marte quindi che in cui c'era stato un evento meteoritico che aveva esposto del ghiaccio sotto in cui si può vedere questa parte bianca e nel corso di alcune settimane si è visto che questo ghiaccio è sublimato quindi anche quello altra ulteriore prova che era sicuramente ghiaccio ghiaccio d'acqua ce ne sono state anche altre di prove però tutto questo portano a dire che in effetti quella mappa che era proveniente da Odyssey era abbastanza realistica e in effetti c'è ancora tanto ghiaccio d'acqua nel sottosuolo nell'immediato sottosuolo marziano che è un primo tassello da aggiungere alla nostra ricerca della vita ma ovviamente ancora non è quello definitivo perché il fatto che ci sia oggi del ghiaccio è vero che nel ghiaccio esistono ancora di microorganismi a terra ma di sicuro non è quell'ambiente con molta energia energetico e con una presenza di liquida molto diffusa che uno si aspetta di trovare in un posto dove c'è molta vita qui ci sono altre immagini che appunto continuavano a confermare che anche nel passato era il ghiaccio era molto diffuso questo per esempio è una classica conformazione che si vede nei ghiacciai a terra quindi qui probabilmente oggi non c'è più però una volta c'era un ghiacciaio che ha fatto questo overflow che negli anni si è mosso lentamente come si muovono i ghiacciai ed ha creato questa struttura che è tipica di ghiacciai sulla terra una morena infatti si e quindi diciamo di prove cominciavano essercene tante un'altra misurazione interessante è stata questa fatta da una sonda europea Mars Express tutti quei puntini verdi sono punti in cui si è misurato una certa presenza di minerali idrogenati nel terreno principalmente argilla argilla è una roccia che si forma quando delle diciamo così rocce vulcani che entrano in contatto con acqua quindi sono sono rocce dove si pensa che in passato ci sia stata molta acqua in uno di questi puntini è posizionato più o meno qua al centro di questa immagine questa è sempre la vecchia mappa di Odyssey la topografica di Odyssey questa parte qua e questo è un sito molto interessante perché è al confine fra la parte alta e la parte bassa di Marte quindi probabilmente era in un punto dove l'acqua ci scorreva ed è una una buca essenzialmente cosa succede a terra quando si fa una buca si trova l'acqua normalmente è una buca molto profonda e che ha nel mezzo un rilievo piuttosto alto e quindi è un punto in cui è veramente interessante andare a studiare cosa succede perché si parte da una parte molto bassa dove si pensa ci sia stata nel passato molta acqua se c'è l'acqua diciamo lì è il punto dove sarà facile trovarne delle tracce e poi si può risalire piano piano questo monte leggendosi come in un libro la storia geologica di Marte e questo 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 cratere come avete capito è il cratere Gale dove è atterrato Curiosity uno dei rover marziani l'ultimo spedito dalla NASA e diciamo userò Curiosity un po' per per capire a che punto siamo con la ricerca della vita su Marte ovviamente altre misurazioni sono state fatte da altri da altre missioni come Spirit e Opportunity e come agli orbiter intorno in orbita intorno a Marte queste immagini non ci dicono niente tranne che diciamo mi lasciano sempre a bocca aperta perché uno questa immagine bellissima del selfie di Curiosity e questa Curiosity visto dallo spazio da Mars Reconnaissance Orbiter allora una delle prime interessanti osservazioni di Curiosity poco dopo essere atterrato qui siamo al sol 39 quindi diciamo poco dopo un mese è questa conformazione rocciosa qua che sembra boh un marciapiede rotto o qualcosa se andiamo a vedere la parte rotta qui se andiamo zoomiamo un po' notiamo questi tanti di questi sassolini di questi ciottoli tondi e che infatti se li confrontiamo con le stesse tipologie a terra vediamo che è qualcosa che qui sulla terra è molto presente e un sasso tondo come ben si sa l'unico modo in cui si può formare è rotolando e sbattendo l'uno contro l'altro in un liquido quindi questa era già nemmeno tanto tempo dopo l'atterraggio di Curiosity una prova che lì in quel punto lì scorrevano dei fiumi dei veri e propri fiumi quindi boh immaginiamoci di essere sulla superficie di Marte con questi fiumi che scorrono anche il crepaccio che va sotto la roccia è caratteristico di un crepaccio da erosione e scorrimento d'acqua ok quindi c'è questa prova che esistono dei fiumi il problema è che il fiume in se stesso non è un ambiente molto diciamo non è il miglior ambiente dove si può sviluppare la vita perché un fiume è troppo energetico affinché si possa sviluppare la vita c'è bisogno sì di un solvente come l'acqua c'è bisogno di elementi chimici e questi di solito arrivano dal terreno e di energia un fiume diciamo tu hai uno scambio col terreno di reazioni chimiche però è troppo veloce diciamo perché poi l'acqua scorre viene portata via non ha il tempo di formare quelle molecole complesse che sono necessarie allo sviluppo della vita quindi grande risultato però ancora non ci dice niente su quanto fosse abitabile Marte nel passato ci dice soltanto che a un certo punto ci sono stati per diverso periodo dei fiumi che scorrevano sul pianeta andiamo avanti curioso che naturalmente ha trovato tracce anche di altri tipi di acqua e questa in particolare è una molto importante perché queste docce io se le vedo per me sono semplicemente docce ma se le fate vedere a un geologo vi dirà che queste sono arenarie e l'arenaria è una roccia sedimentaria che quindi si forma in un ambiente dove c'è dell'acqua piuttosto calma quindi non che scorre in cui le varie particelle sassolini sabbia si depositano lentamente sul fondo e nei millenni milioni di anni eccetera eccetera cementificano e si creano queste rocce che si chiamano appunto arenarie quindi diciamo la presenza di queste arenarie è la prova che qui era il letto di un corpo d'acqua relativamente grande e relativamente calmo quindi dove non non c'era una corrente che portava via continuamente queste queste sabbie queste queste piccole particelle quindi era o il letto di un lago o di un mare in un certo qual modo e questo è uno zoom nella in una di queste arenarie che appunto ogni volta che facciamo uno zoom che guardiamo questo se non te lo dicono pensi che sia una roccia qui a terra tranquillamente anche qui sassolini arrosondati però molto più piccoli rispetto a quelli dell'atenaria rispetto a quelli della breccia vista prima e che appunto evidenziano che ci sono rocce sedimentarie e quindi in passato Marte ha avuto corpi d'acqua relativamente grandi in cui chi lo sa si sarebbe potuto formare la vita un'altra cosa importante che ha visto Curiosity è questa Curiosity ha un piccolo una piccolissima trivella non è in grado di scavare molto in fondo soltanto qualche centimetro e ultimamente diciamo una missione che va avanti ormai da anni è tuttora attiva non sta usando molto per un problema tecnico diciamo però tutte le volte che Curiosity ha usato questa trivella ha trovato questa cosa molto interessante è che Marte è rosso fuori e grigio dentro e ovviamente questo dipende dai vari siti alcuni erano più o meno grigi più o meno rossi però questa è una cosa molto importante perché il rosso evidenzia un ambiente molto ossidante che è quello che si trova su tutta la superficie di Marte l'ambiente ossidante non è buono per niente per la vita la vita predilige un ambiente riducente dove non c'è molto ossigeno dove non ci sono le costantemente non siamo costantemente bombardati da radiazioni traviolette e quant'altro che creano appunto questo ambiente ossidante il fatto che sotto il terreno le rocce siano grigie fa pensare che appunto nel passato Marte non avesse un ambiente ossidante ma avesse un ambiente riducente che è quello che permette alla vita di svilupparsi quindi altro tassello che ci fa pensare che in passato Marte avrebbe potuto ospitare la vita un'altra cosa interessante è questa tantissime altre immagini questa è un'immagine in cui i colori sono il bilanciamento del bianco è fatto in maniera tale per i geologi non è quello che vedremo su Marte è tutto molto più rosso ovviamente quello che fanno i geologi è di mettere un bilanciamento del bianco che riproduca quello che si vede a terra perché in questo modo si possono vedere i contrasti nelle rocce e confrontare l'immagine con quello che vedremo a terra e quindi andare a capire che tipologia di roccia c'è eccetera eccetera quindi diciamo i contrasti sono molto aumentati facendo così è per questo che c'è il cielo azzurro diciamo una cosa che notiamo qui è la presenza di tutte queste venature ora una venatura si forma quando tu hai una roccia in presenza di acqua sovrastante probabilmente ci sono delle crepe dei crack delle crepe in cui quest'acqua si infiltra e nei secoli nei millenni successivi crea una nuova roccia esattamente come si è creata la prima il fatto che ci siano queste striature di colore diverso evidenzia che la composizione chimica dell'acqua che ha creato quelle venature era diversa da quella che ha creato le rocce circostanti il che significa che questi avvenimenti queste venature sono state create in un'era geologica diversa fondamentalmente proveniva da un'epoca diversa di Marte e questo è un risultato molto importante perché evidenzia che l'acqua su Marte c'è stata per molto tempo non è stato un vento sporadico ma diciamo oggi si pensa almeno per centinaia di milioni di anni se non addirittura quasi un miliardo di anni comunque un tempo molto lungo e questo è essenziale perché noi ancora oggi non abbiamo idea di come possa svilupparsi la vita dalle complesse molecole organiche alla vita vera e propria al batterio però quello che sappiamo è che sì è vero che sulla Terra appena potuto svilupparsi si è sviluppata però intuitivamente capiamo che più tempo ci sono state le condizioni per cui si potesse sviluppare la vita e più è probabile che la vita si sia sviluppata ovviamente più a lungo queste condizioni sono state su Marte più è probabile che in passato magari questa della vita si sia sviluppata e diciamo in questo momento questo è il punto a cui siamo oggi quindi sappiamo ormai abbiamo stabilito questa e altre tutte altre osservazioni abbiamo stabilito che in passato Marte era abitabile il futuro cosa ci aspetta nei prossimi anni queste sono le missioni che che stanno per andare su Marte nei prossimi anni quindi sono soltanto le missioni che ormai sono si stanno già preparando sono già alcune in molto avanzato stato di preparazione come Insight che partirà fra qualche mese anzi mese prossimo alcune di queste diciamo non avranno come obiettivo proprio la ricerca della vita o delle condizioni di abitabilità e questo diciamo Insight stessa missione della NASA avrà soprattutto degli obiettivi di tipo geofisico quindi andrà avrà una trivella che scava giù a diversi metri sul sottosuolo però diciamo gli obiettivi della missione sono soprattutto di tipo geofisico andrà a caratterizzare la geofisica del pianeta quindi sismologia struttura del terreno eccetera eccetera e poi ci sono alcune missioni quella cinese di cui non sappiamo molto come al solito vedremo non ho idea degli obiettivi della missione cinese quali saranno e poi c'è una missione che più che altro non sono sicuro della stimentazione che avrà a bordo ma suppongo sia un po' più come quella indiana un po' più simbolica che di ritorno scientifico non sarà altissimo ma che avrà un grande valore simbolico per il paese che la lancerà e che in quel caso saranno gli emirati aria-uniti le due missioni più interessanti ovviamente saranno quelle del 2020 della nasa e dell'esa quindi partiamo dal rover mars 2020 che è un rover che diciamo è stato progettato sulla base di curiosity quindi molto simile stessa grandezza più o meno stesse atterrerà nello stesso modo piuttosto rocambolesco però avrà una strumentazione molto differente questo perché appunto il tassello precedente l'abbiamo già raggiunto abbiamo stabilito che nel passato Marte era abitabile ora vogliamoci andare a cercare tracce di di questa abitabilità nelle varie rocce di questo se nel passato c'erano veramente dal punto di vista chimico quindi non solo geologico non solo della c'erano le condizioni appunto non soltanto di presenza di acqua ma anche di composti organici di determinate rocce che indicherebbero una presenza della vita ora la la missione di Mars 2020 sarà appunto cercherà di andare in alcuni siti ancora non è stato deciso il sito di atterraggio e andare a cercare queste rocce una cosa che farà Mars 2020 sarà quella di raccogliere dei campioni interessanti potrà fare delle analisi lì sul luogo però l'obiettivo finale sarebbe quello di raccogliere tutti questi campioni di lasciarli lì da una parte e delle missioni future dovranno andare lì raccogliere questi campioni e riportarli a terra diciamo una cosa del genere è il il paradiso dei geologi e dei biologi perché permetterebbe di studiare finalmente in laboratori molto più attrezzati di quelli che potrebbero essere su questi comunque gioiellini tecnologici ma sempre limitati permetterebbe di studiare queste rocce finalmente probabilmente di trovare queste queste prove di vita passata ovviamente il rischio è che si devono sviluppare ancora queste missioni e a tutt'oggi la NASA non ha finanziato nessuna di queste missioni che poi devono andare a ripescare questi campioni e a riportarli a terra quindi comincia a essere specialmente una timeline abbastanza critica perché il rover andrà su Marte nel 2020 e poco dopo comincerà a raccogliere questi campioni questo significa che il prima possibile qualcuno dovrà andarsene a riprendere e contando che comunque una missione ci mette anni per poterla sviluppare e ancora nessuna missione è stata sviluppata per andare a riprendere a questo punto stiamo parlando della fine degli anni 20 realisticamente a poter andare a riprenderli se continuano a ritardare a non finanziare una missione questi campioni rimarranno lì più o meno penso per sempre quindi diciamo comincia a essere una timeline abbastanza critica e vedremo quello che la NASA farà nei prossimi anni dal nostro punto di vista invece è molto interessante ExoMars ExoMars è una missione europea fatta in collaborazione con l'agenzia spaziale russa il cui obiettivo esplicito è la ricerca di segni di vita su Marte diciamo la NASA sta adottando questo approccio passo dopo passo anche perché probabilmente è rimasta un po' scottata dalla missione dei Viking che hanno andato lì a cercare la vita e non l'hanno trovata l'ESA non ha questo bagaglio può permettersi di andare la prima volta su Marte e dire cerchiamo sta vita vediamo se la troviamo la prima missione è quella del 2016 di Trace Gas Orbiter che ha cominciato la missione scientifica proprio nei giorni scorsi non tanto tempo fa ha passato circa un anno ad entrare nell'orbita marziana prevista è stato un processo piuttosto lungo non entriamo nei dettagli perché appunto non c'è molto tempo per discutere però diciamo che sta cominciando la sua missione ora la cosa principale che farà Trace Gas Orbiter è andare a misurare i gas in traccia nell'atmosfera marziana perché questo è importante perché tra questi gas che andrà a misurare ci sarà il metano ora la questione del metano su Marte è un po' controversa e ancora non è ben definita quello che si sa è che da delle misure di Mars Express altra sonda europea si sono forse individuate alcune concentrazioni di metano in alcuni punti di Marte non costanti quindi che erano periodiche o comunque non sempre presenti qualcosa che veniva emesso dal sottosuolo e poi non si ritrovava più queste misure sono state in qualche modo confermate da osservazioni da terra perché da terra con i telescopi è possibile andare in qualche modo a caratterizzare il problema di tutte queste misure compreso quella di Mars Express è che sono veramente al limite della misurabilità della sonda quindi non si può con certezza dire che è stato misurato grosse concentrazioni di metano e il problema delle misure da terra è che sono contaminate in qualche modo dalla presenza dell'atmosfera terrestre che comunque nel tragitto dell'ottico da terra a Marte esiste quindi quello che si vuol fare è andare mandare una sonda a caratterizzare questo metano perché è importante il metano il metano è importante perché sulla terra gran parte del metano è prodotto da processi biologici sono batteri principalmente batteri nel terreno che producono metano ci sono altri processi che possono produrre metano e sono geologici quindi che non prevedono la presenza di vita se troviamo questo metano è importante stabilire se è l'uno l'altro ovviamente e quello che farà Threat Gas Orbiter è che ha uno strumento che è veramente molto sensibile quindi in grado di caratterizzare su tutta la superficie marziana dove sono questo metano dov'è questo metano e la periodicità e un'altra delle cose che farà è andare a caratterizzare la composizione isotopica di questo metano perché in base agli diversi isotopi di metano quindi molecole che hanno un diverso numero di neutroni all'interno è possibile stabilire se questo metano proviene da processi biologici o processi geologici quindi questo è l'obiettivo di Threat Gas Orbiter ed è stato progettato esplicitamente per risolvere questo mistero quindi vedremo nei prossimi mesi anni i risultati di questa sonda il passo successivo è quello il rover che verrà mandato su nel 2020 questo rover è diciamo una versione un po' più piccola è forse leggermente meno potente diciamo così dei rover della NASA che però appunto ha l'obiettivo specifico di andare a ricercare in questo caso non tanto traccia di vita oggi quindi non microbi che sono lì su Marte ma le tracce di vita passata su Marte quindi quello che farà questo rover non è dipendente da raccolta campioni e l'analisi a terra è una missione a scala un po' più piccola però che andrà a analizzare in situ le rocce più interessanti per vedere se ci sono delle delle tracce lasciate da microbi passati nelle rocce marziane la cosa interessante che avrà questo rover è una trivella che contrariamente a quella di Curiosity sarà in grado di scavare fino a 2 metri nel sottosuolo quindi lontano dall'influenza dei raggi ultravioletti o comunque delle radiazioni sulla superficie di Marte vedremo un sacco di dita incrociate qui perché appunto ci sono un sacco di cose come in tutte le missioni che possono andare storte vedremo nel 2020 l'esito di questa missione fine prima parte questo è più o meno il il punto a cui siamo nella ricerca della vita su Marte non finisce qui appunto con la ricerca della vita su Marte con la vita nel sistema solare perché nonostante quello appunto che si era un po' trovato e nonostante il fatto che gli scienziati probabilmente non pensavano a scenari del genere nei vari anni si è trovata diciamo anche il sistema solare esterno e i piccoli planetoidi che esistono nel sistema solare anche loro possono essere interessanti per quanto riguarda dare una risposta a queste alle domande che dicevo all'inizio del trovare le origini della nostra vita e magari la presenza di vita presente nel sistema solare qui questo è l'elenco di tutte le varie missioni su questi non solo pianeti esterni diciamo corpi minori perché alcuni sono andati su asteroidi che in realtà sono near earth object quindi molto vicini all'orbita terrestre però come possiamo vedere diciamo il computo numerico è simile alle varie missioni su Marte quindi c'è stato comunque un buon numero un'altra cosa che possiamo osservare è che la maggior parte di loro sono state hanno avuto successo quindi ovviamente solo Marte ha queste difese planetarie così forti anche qui a parte la battuta in realtà probabilmente una possibile spiegazione è che Marte è più facile da raggiungere il che vuol dire che su Marte si accettano dei rischi un po' più alti rispetto ai rischi che si accettano nel progettare queste missioni queste missioni diciamo prima di fare una cosa non lo so come lo sky crane che atterra su Marte con le grue con il sistema di argani ci pensano dieci volte e quindi fanno le cose un po' più probabilmente più costose ma che garantiscono un rischio minore diciamo quindi vediamo il numero delle missioni che sono state a queste destinazioni e alcune di loro sono ancora attive anche se ora qui ci addentriamo su un terreno in cui le distanze cominciano a essere veramente grandi quindi molte di loro diciamo o hanno terminato la missione e stanno esplorando parti dello spazio inesplorate però ormai hanno concluso la loro missione principale o comunque stanno andando da un obiettivo all'altro come per esempio New Horizon che sta andando a Plutone al prossimo oggetto della faccia di Kuiper quindi al momento di attive in realtà ci sono soltanto Juno su Giove che però sta studiando l'atmosfera di Giove quindi non qualcosa che non si pensa sia rilevante alla vita e Don su Cerere che diciamo non è tra i posti nel sistema solare che uno cercherebbe più facilmente la vita cominciamo da Giove e dalla missione Galileo che è stata la prima a adesso l'unica a caratterizzare completamente il sistema gioviano purtroppo Galileo ha avuto un problema in partenza che ha avuto un problema con un'antenna e questo ne ha ridotto il risorno scientifico di molto quello che hanno fatto alla NASA di concentrarsi soprattutto sui quattro satelliti galileani il destino nel nome Galileo che si concentrava nei satelliti galileani che sono appunto io Europa Ganimede e Callisto in particolare quando parliamo di vita o possibile vita i più interessanti sono due Ganimede e Europa Ganimede è il satellite più grande del sistema solare è veramente enorme più grande ad esempio di Mercurio leggermente più piccolo di Marte diciamo se non orbitasse intorno a Giove sarebbe un pianeta a tutti gli effetti ha una superficie molto variegata come si può vedere da questa immagine da Galileo e in entrambi questi corpi celesti Galileo ha scoperto tramite lo studio del campo magnetico dell'interazione del campo magnetico di Giove con questi corpi che esiste un oceano di acqua salata sotterraneo questo perché appunto l'acqua salata è un conduttore quindi interagisce con il campo magnetico di Giove e nel caso di Ganimede anche con il proprio campo magnetico che è l'unico satellite da avere un proprio campo magnetico nel sistema solare partiamo da Ganimede ovviamente tutti conoscono Europa penso avranno sentito parlare di Europa come il posto più probabile alla vita però anche Ganimede potrebbe avere ora come mai si parla più di Europa e non di Ganimede andiamo a vedere questa è la struttura che gli scienziati pensano ci sia su Ganimede quindi in base a queste misurazioni del campo magnetico quello che si pensa è che ci siano diversi strati di ghiaccio sotto la superficie del satellite intervallati da oceani sotterranei di acqua salata che diventa via via più salata man mano che si raggiunge una maggiore profondità quindi man mano che si raggiunge il centro roccioso del satellite ovviamente perché appunto i sali minerali provengono dalla roccia fondamentalmente questo è molto interessante ci sono cose straordinarie che uno non se le sarebbe mai immaginate tipo non so questo strato qui di di neve in cui si forma della neve che poi nevica verso l'alto per convezione cioè cose veramente stranissime che se uno se lo fosse immaginato prima l'avrebbero preso per pazzo però diciamo non è un ambiente molto conduttivo alla formazione della vita questo perché uno strato di acqua intrappolato fra due strati di ghiaccio non ha modo di scambiare elementi chimici con con la roccia e quindi non è un ambiente in cui c'è molto scambio di reazioni chimiche in cui si possono formare molecole complesse come quelle necessarie alla vita al contrario in Europa abbiamo un oceano molto spesso un centinaio di chilometri che è direttamente in contatto con la roccia sottostante questo significa un paio di cose principalmente che quest'acqua è a contatto appunto con la roccia che all'interno di Europa per qualche motivo probabilmente forse mareali o quant'altro anche calore interno residuo c'è una fonte di calore e di energia interna e quello che succede per esempio sulla terra è che si formano le sorgenti idrotermali e quindi questa è una possibilità che gli scienziati pensano sia possibile su Europa quindi abbiamo questo oceano incappolato sotto la superficie ghiacciata di Europa a contatto con il terreno in cui in qualche modo questo calore interno di Europa potrebbe venire fuori in alcuni punti quello che si è scoperto abbastanza recentemente alla fine degli anni 70 è che queste sorgenti idrotermali sulla terra questa è ovviamente sulla terra non è su Europa sono in realtà pieni non si pensava prima che potesse essere possibile ma sono pieni di vita sono pieni quindi batteri particolari che anziché perché sono normalmente in posti in cui la luce non arriva per niente sono veramente profondi questi batteri riescono a nutrirsi soprattutto grazie a metabolizzare i composti chimici che escono da queste sorgenti idrotermali e quindi si pensa che magari in Europa potrebbe essere sviluppata una vita simile vedremo nel frattempo ci possiamo muovere su Saturno e quando parliamo di Saturno ovviamente non possiamo non parlare di Cassini e Huygens questa è un'immagine ripresa dai Voyager di Titano Titano è il satellite più grande di Saturno è il secondo satellite del sistema solare grande quasi come Ganymede e quello che ha di particolare Titano è che lo vedete qua prima di tutto non si vede la superficie è intorno a un'atmosfera che è piuttosto densa quindi tra i primi obiettivi di Cassini quando è arrivato su Saturno è stato proprio quello di andare a studiare Titano e queste sono alcune delle prime immagini questa è un'immagine relativamente che si vede questa nebbia giallina che forma questa atmosfera queste sono le prime osservazioni con radar che riescono a vedere la superficie direttamente in superficie quindi a osservare una superficie comunque molto variegata che ancora non si sa non si poteva caratterizzare questa è un'altra bellissima immagine in cui si vedono delle nuvole che scorrono sulla sopra nell'atmosfera di Titano infatti una delle misurazioni che era già stata fatta dai Voyager a suo tempo era quella di misurare il profilo di temperatura e pressione nella superficie e ci si è accorti che la temperatura e la pressione alla superficie di Titano erano vicini a quello che si chiama il punto triplo del metano e il punto triplo è diciamo quella condizione di temperatura e pressione in cui possono coesistere per piccole differenze di temperatura e pressione i tre stati della materia quindi liquido gassoso e solido e quello che per esempio succede sulla Terra in cui siamo vicini al punto triplo dell'acqua e quindi si ha questo ciclo di evaporazione condensazione solidificazione e scioglimento dei ghiaggi quindi si era ipotizzato che potesse succedere qualcosa di simile col metano su Titano e in effetti queste nuvole sembrano dare ragione a quello che pensavano gli scienziati in questi anni naturalmente una delle prove definitive è data una missione europea che è Ouygens che è atterrata proprio su Titano pochi mesi dopo l'arrivo di Cassini su Saturno ha rilasciato questa piccola sonda europea che è andata a atterrare col suo paracadute su questo satellite non era previsto che sopravvivesse l'atterraggio diciamo e quindi quello che faceva era mandare immediatamente i dati verso Cassini così che intanto qualche dato si aveva in realtà è riuscito a sopravvivere qualche minuto ha ripreso qualche immagine dalla superficie questa è una delle prime immagini una volta superato il primo strato di nuvole di nebbia che Ouygens ha mandato a Cassini e anche qui se non ti dicono che questo è Titano pensi che sia una foto un po' sgranata della Terra e in effetti questo questi sono fiumi di un liquido che probabilmente è il metano perché le temperature e le pressioni ci dicono che sarà metano o idrocarburi e questo sembra un mare o un lago dopodiché Ouygens è atterrata ha scattato questa immagine anche qui forse un po' sgranata un po' nebbiosa però quello che si nota è ancora questi sassi tondi abbiamo detto prima cosa succede come fanno a formarsi i sassi tondi ci vuole un liquido che li fa sbattere tra di loro ora questi sassi sono un po' strani diciamo perché quello è ghiaccio di acqua sul Titano le temperature sono talmente fredde che i sassi sono di ghiaccio d'acqua e i liquidi è metano e idrocarburi quindi siamo a livelli di stanezza notevole successivamente poi Cassini dall'orbita ha continuato a studiare Titano ha fatto più di 100 120 mi sembra passaggi ravvicinati durante la sua lunghissima missione con la radar è andata a caratterizzare la superficie di Titano e ha visto queste cose che senza ombra di dubbio sono laghi e fiumi di metano su Titano questa è una mappa quella che si la conoscenza che si ha ora di Titano sappiamo che sono presenti questi larghissimi corpi di metano idrocarburi specialmente nella regione polare di Titano può essersi sviluppata la vita qui non lo sappiamo perché il metano se lo confrontiamo con l'acqua è un solvente che non ha le stesse caratteristiche che l'acqua è molto migliore come solvente come si pensa sia più semplice che si sviluppi la vita all'interno dell'acqua che all'interno del metano però mai dire mai potrebbero missioni future andare a cercare proprio tracce di vita su questo satellite l'ultimo posto diciamo così in cui possiamo pensare di cercare la vita sempre su Saturno e cominciamo da questa immagine fantastica che è Saturno in controluce che evidenzia tutti gli anelli intorno ed è bellissimo notare come questa è più o meno diciamo la stessa immagine però ripresa dalla parte frontale quindi direttamente riflessa e far vedere quanto sono densi i vari diversi anelli di Saturno per esempio questa parte qui che vediamo qua scura è l'anello B è quella che è molto più chiara se vista di fronte perché ovviamente essendo più densa riflette tutta la luce e ce n'è meno che passa in trasparenza diciamo mentre l'altro anello questo qui che è l'anello l'anello A grazie è un po' più trasparente e si vede che passa molto più luce in trasparenza si notano anche gli altri anelli l'anello C e due molto deboli uno è l'anello G e questo esterno molto più diffuso è l'anello E veramente diffuso veramente tenue che è difficile da individuare in mezzo all'anello E c'è un satellite che si chiama Encelado ed è uno sembra in apparenza uno dei tanti di Saturno ce ne sono tantissime di queste lune ghiacciate come possiamo vedere sono fatte soprattutto dal ghiaccio d'acqua ci sono crateri ci sono parti un po' più nuove parti un po' più vecchie Saturno diciamo in particolare anche Giove ma in particolare Saturno è pieno di questi satelliti anche abbastanza piccolo Encelado si tratta di 500 km di diametro quindi relativamente molto più piccolo della nostra luna per esempio questa è un'immagine di Voyager questa è quella invece ripresa da Cassini e questa è un'immagine fantastica perché ci fa vedere diciamo diverse fonti di luci andiamo a analizzarle per esempio questa la falce è ovviamente la parte di Encelado che è illuminata dal sole direttamente però bellissima anche questa parte qua che invece proviene dal riflesso di Saturno su Encelado e quindi lì da quella parte lì diciamo è notte però uno avrebbe sopra di sé proprio il pianeta che restituisce l'illuminazione dal sole magari non a giorno ma insomma abbastanza luminoso dopodiché si vede intorno che il background lo sfondo non è nero e questo perché siamo in mezzo all'anello E quindi c'è la luce diffusa dalle particelle dell'anello che rimandano la luce altra cosa strana di luce è questa cosina qua che non si capisce bene cos'è e gli scienziati anche lì non danno mai potrebbe essere qualcosa emesso da Encelado o forse un artefatto della camera chi lo sa infatti uno dei primi esperimenti che Cassini fa in uno dei successivi passaggi vicini a Encelado è quella di ruotare la camera in alcuni gradi durante il passaggio per capire se è un artefatto della camera o se è qualcosa di reale e come possiamo vedere qui questo sbuffo continua a esserci nonostante la rotazione della camera e in effetti è stato confermato che questi sono immateriale anche in grosse quantità espulso da Encelado in alcune diciamo spaccature del ghiaccio che si hanno successivamente caratterizzando questo pianeta si è scoperto che anche qui esiste un oceano sotterraneo diciamo sotto il ghiaccio e una cosa anche qui fantastica che Cassini ha fatto è quello di passare attraverso questi pennacchi che qui possiamo vedere come siano proprio questi pennacchi ad aver formato l'anello E Encelado è il creatore dell'anello E in essenza possiamo vedere qui in mezzo proprio l'anello di Saturno e questo è da vicino e questa è una cosa veramente fantastica passandoci attraverso Cassini ha analizzato questo materiale proveniente dall'interno di Encelado e ha trovato ovviamente acqua salata e minerali il che vuol dire che questo oceano è direttamente in contatto con la doccia e anche qui ne abbiamo discusso prima sappiamo cosa cosa significa quindi magari anche Encelado è una possibile destinazione per andare a cercare la vita è anche una piuttosto semplice da trovare perché qui non dobbiamo neanche atterrare ci possiamo semplicemente passare attraverso analizzarlo e vedere se ci sono tanti microbini espulsi insieme all'acqua quindi ci sono molti scienziati che diciamo spingono per avere una missione su Encelado purtroppo al momento non ce ne sono altre concludo questa presentazione con una cosa che uno non si aspetterebbe mai di trovare quando si discute di vita che è comete comete perché parliamo di comete quando parliamo di vita principalmente qui ad esempio si vede il flyby di una delle prime sonde mandate su una cometa che è stata Stardust su Wild 2 che addirittura ne ha raccolto un campione e l'ha rimandata a terra per analizzare e ovviamente non possiamo non parlare di questa fantastica missione che è Rosetta su Churymov Gerasimenko tutto quello che hanno trovato queste sonde sulle comete è la presenza di un gran numero che diciamo l'interazione fra il ghiaccio della cometa e il sole produceva una gran quantità di molecole organiche anche molto complesse che si pensa siano i precursori della vita sulla Terra in più c'è anche il paradosso del fatto che si pensa che al momento della formazione del sistema solare non ci potesse essere molta acqua nei pianeti rocciosi proprio perché per gravità l'idrogeno è un elemento piuttosto leggero quindi si pensa sia stato spinto via dalle regioni più vicine al sole quindi non si pensa ci fosse molta acqua nei pianeti rocciosi interni e che molta dell'acqua provenga proprio dalle comete nello stato iniziale del sistema solare in cui si aveva un costante bombardamento di asteroidi e comete nei pianeti interni quindi magari c'è chi ipotizza che molte delle sostanze organiche che poi hanno permesso lo sviluppo della vita in realtà provengano direttamente dalle comete e che poi l'incubatore le buone condizioni che c'erano sulla Terra e magari anche su altri pianeti abbiano creato della vita concludo qui in realtà avevo messo altre slide su Plutone dice che c'entra Plutone Plutone in in grande possiamo considerarlo possiamo fare gli stessi discorsi che abbiamo fatto per le comete un sacco di sostanze organiche ghiaccio un pianeta piuttosto molto attivo nonostante il fatto che sia molto lontano e che magari molti di questi pianetini nel passato del sistema solare avrebbero potuto impattare con i pianeti interni quindi chi lo sa dopo la presentazione di Marco ieri ho pensato se togliere queste immagini ma ho deciso di lasciarle perché sono troppo belle secondo me abbiamo Plutone e Caronte abbiamo queste immagini di questa pianura fantastica di azoto solidificato e le montagne di ghiaccio di acqua secondo me sono troppo belle da vedere quindi ce le ho lasciate infatti questa è appunto l'atmosfera di Plutone che abbiamo visto anche la presentazione di ieri e queste sono le missioni future che sono o in preparazione o in viaggio su verso questi corpi ce ne sono alcune su asteroidi lusi psyche e altre le più interessanti ovviamente saranno queste Europa Clipper che andrà a fare flyby multiple di Europa lancio forse nel 2022 non si sa dipende da SLS cosa fanno gli americani poi c'è la missione europea che andrà più piano però diciamo che è finanziata abbastanza stabilmente si sa più o meno quando partirà e Juice diciamo andrà a studiare tutti gli escluso penso io solo Ganymede Callisto e Europa andrà a studiare soprattutto questi satelliti entrerà in orbita anche intorno a Ganymede quindi vedremo il primo satellite entrare in orbita intorno la prima sonda entrare in orbita intorno a un satellite di un pianeta interessanti ci saranno anche una di queste due missioni non si è ancora decisa quale fra le due partirà Caesar che ritornerà a Churymour Gerasimenko queste sono missioni della NASA per prelevare un campione riportarlo a terra o Dragonfly che andrà su titano con un drone volante questa per quanto possa essere affezionato a Churymour Gerasimenko questa è quella che vorrei vedere perché veramente dal livello ingegneristico veramente strana concludo qui con l'immagine di due poveri pianeti Urano e Nettuno che non sono stati studiati ancora nel dettaglio di cui abbiamo soltanto quel passaggio iniziale dei Voyager e che tanti scienziati vorrebbero tornare perché anche questi hanno un sacco di satelliti che potrebbero essere interessanti primo fra i quali questo qui tritone e con tutti gli esopianeti che si sono scoperti negli anni recenti si pensa che questa tipologia di pianeti sia una tra le più frequenti almeno nella nostra galassia e quindi diciamo che studiare questi pianeti ci porterà a tante future scoperte scientifiche chi lo sa anche magari a capire se mondi come questi possono essere abitabili almeno nei satelliti concludo qui queste sono le fonti a cui ho attinto principalmente questa presentazione di Emily Lakdawalla della Planetary Society e tutte queste altre che sono liberamente disponibili in particolare suggerisco come aveva fatto a suo tempo Marco nell'ultima astronautica gli ESA Bulletin non mi ricordo dove l'ho messi qua perché sono veramente veramente interessanti e tutti noi come cittadini europei abbiamo accesso a queste pubblicazioni e secondo me ne valgono la pena grazie concludo qua domande se la cosa svegli la ricerca eventuale di tracciabilità per esempio per dire analizzando i buffi del del che potrebbero vengli fuori che abbiamo visto parte sempre dal concetto che la vita possa avere forma batterica o similbatterica oppure vengono considerate anche alternative cioè non è detto che la vita è vero non è detto che la vita sia come la conosciamo noi sulla terra però è anche vero tutte queste missioni esattamente come dici tu partono dal presupposto che la vita è perlomeno simile magari nei mari di Titano quindi diversa per biochimica ma sempre della tipologia che conosciamo è anche vero che se devi progettare una missione cerchi qualcosa che può darti più facilmente un ritorno scientifico andare a cercare qualcosa che veramente non sai se può esistere tanti non pensano valga la pena investirci fondamentalmente siccome su questi posti su queste destinazioni è possibile che ci sia una vita che è abbastanza simile a quella che c'è sulla terra penso che sia un approccio abbastanza sensibile quella di sviluppare missioni che vanno a cercare proprio quello però in effetti niente vieta che altri tipi di tipologia di vita possano esserci non so tipo Star Trek la meba gigante nello spazio non so no ma a struttura stessa certo certamente esiste un tipo di vita che pur essendo vita non si basa sul DNA o comunque su una struttura chimica di quel tipo lì ovviamente io posso anche farci la testa contro ma se non ho sensore vedo però appunto come dicevo andare a progettare una missione per rilevare quello che non si conosce è semplicemente impossibile qualunque ingegnere ti dirà che se non gli dà le specifiche è difficile progettare qualcosa che non si conosce basta chiedere a chi ha progettato il sistema di atterraggio di file che nel moto più piccolo non si sapeva il terreno da chi aspettasse e che non ha molto successo alla fine qualcuno però supponeva di andare a cercare quegli elementi chimici che non potrebbero rivistere se non ci fosse qualcosa di vivo e diattivo che li riproduce in continuazione di portare in formità e infatti quello è quello che fa ExoMars molto bello comunque bellissimo riassunto delle puntate precedenti e future diciamo do credito soprattutto Emily Lackdawalla perché ho ripreso la stessa struttura non mi sono inventato niente ma anche tu una domanda seria dato che sei più bene in quella zona se mi riguarda anche delle risorse di Edimburgo c'è un centro potente di astrobiologia no sinceramente no l'unica cosa insider che ho fatto ho visitato la Marziard dove stanno sviluppando il rover marziano semplicemente vedendolo da fuori del roverino che si muove autonomamente dentro perché una delle cose interessanti che farà questo rover è che sarà molto più autonomo di quanto è Curiosity per esempio ora o altri spediti opportuni quindi si cerca di sviluppare un sistema di guida che sia il più autonomo possibile volevo solo farti un complimento per una cosa feticista che sono le fonti citate a ogni singola slide deformazione professionale quindi si apprezzatissimo non sono del settore però aiuta molto a capire da dove arrivano le immagini ma aiuta molto anche chi poi a posteriori delle conferenze vuole andarsi ad approfondire e tra parentesi aggiungerei che quelle immagini che sono quasi tutte di dominio pubblico perché prodotte da ESA o NASA sono in realtà quasi tutte rielaborate da semplici appassionati che prendono queste immagini ci mettono il loro lavoro cambiando i colori perché come dicevo ad esempio le immagini che vengono da Marte sono fatte per i geologi per studiare le rocce non sono belle da vedere non sono realistiche e quindi di solito sono proprio gli appassionati che prendono queste immagini e vanno a rielaborarle dove è possibile cercare di dare credito a questi appassionati appunto fra le fonti c'è la Bruce Murray Space Image Library in cui ognuno di noi può andare lì pescarsi queste immagini andarsene a rivedere ma anche se uno vanesiti delle missioni tipo quelle di curiosi che uno si può scaricare le immagini che sono arrivate ieri da Marte e andarsene a rielaborare veramente chiunque può farlo basta avere un computer e internet